Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e in questo video voglio parlare del mio trade su Neo Zelanda Yen e su quello che è un principio base del trading online e del fare trading, ovvero che non tutte le posizioni possono essere posizioni profittevoli e che l'accettazione del rischio di investimento, del rischio di posizione, quindi l'accettazione della perdita è insita nel trader e che quindi nel momento in cui una posizione non fa quello che abbiamo reputato potesse fare secondo le nostre analisi dobbiamo avere la capacità e la decisione di chiuderla anche in perdita. Allora come sapete ho fatto anche dei video qui sul canale da primi luglio, metà luglio, avevo una posizione long che ho incrementato in alcuni momenti sul Neo Zelanda Yen dovuto principalmente a una price action che è stata praticamente la classica price action che io vado a lavorare ogni giorno e in questo caso avevamo un trend long molto chiaro sul grafico weekly, una tendenza che si era fermata qui nel marzo 2021 poi aveva creato un range, i classici trading range dove quando si vengono a creare false rotture come in questo caso e come in questo caso diciamo che la possibilità che il mercato una volta che viola e quindi convalidi questo che per me è una pin bar inside fake out last kiss quindi uno dei miei trigger tra l'altro confluenti appunto in vari altri trigger di price action che utilizzo diciamo che con le conferme tra l'altro del caso che abbiamo avuto anche sul daily durante le settimane successive che io infatti inizialmente sono entrato su questa FTV circa su questa zona e poi sono entrato con delle conferme appunto da questa pin eccetera eccetera e quindi avevo una posizione anche incrementata proprio per il fatto che il mercato mi stava dando delle conferme di tenuta molto molto buona, chiara di questo trading range e l'obiettivo iniziale poteva essere la zona alta per poi andare anche più su perché comunque arrivavamo da una tendenza rialzista ripetiamo su un weekly chart molto molto chiara questa settimana il mercato per qualsiasi motivo quindi possiamo metterci qualsiasi cosa non è quello l'importante ha portato soldi su questa coppia ma vendendo i dollari neozelandesi e comprando i yen quindi che cosa è successo? è successo che e qui vado sul daily nel giro di pochissimi giorni dopo aver fatto questa falsa rottura qui sul daily quindi questo, questo era il massimo poi ha fatto questa falsa rottura che però è ripartita su e quindi aveva creato anche la FTV ha creato poi questo sfalso e con la rottura di questo minimo che era il minimo importante si è creata la volatilità in un giorno molto forte che ha riportato i prezzi sulla parte bassa del trading range e ieri ho voluto aspettare ovviamente ieri io avevo un paracadute più ampio ho spostato poi il paracadute ancora a 74 e mezzo per vedere stamattina o comunque tra ieri e oggi che cosa avveniva e il mercato anche oggi sembra ormai dare giù allora l'idea poteva essere quella di attendere e infatti ci ho riflettuto e ho fatto la chiusura 10 minuti fa perché? perché dopo un movimento così estremo come è successo qui che lui ha fatto questa falsa rottura e poi l'ha recuperata poteva succedere, può succedere anche qui però in realtà poi facendo un po' di riflessioni ho pensato che in effetti quindi il mio trade che seppur con gli incrementi ormai avevo da un mese e su cui comunque credevo potesse esserci questo movimento ovviamente se no non lo facevo e ci ho creduto fino a diciamo fino a ieri l'altro ieri poi ho iniziato ad avere quei dubbi però volevo aspettare a non essere repentino in una chiusura perché poteva fare delle false rotture può ancora farle in realtà e quindi con più razionalità ho deciso che in effetti probabilmente tutte le cose che mi avevano fatto entrare quindi dal weekly al daily con le varie conferme, le tenute eccetera eccetera erano fallite e che quindi in questo momento attuale quello che poi rimaneva sul mercato non era nient'altro che la mia speranza di rivedere il prezzo salire e come vi dico sempre quando inizia a esserci la speranza dopo un fallimento di un pattern ovviamente dopo un fallimento di una price action che riparta il mercato per farmi contento per magari ritornare in una posizione profittevole diciamo che non è più, non ha più senso stare dentro e quindi in questo caso una posizione ripeto in cui ci credevo che era una posizione più di medio termine perché io sono rimasto veramente un mese sempre in profitto con questa posizione anche in profitto abbastanza interessante voglio dire in un certo momento in due giorni si è venuta tranquillamente a vanificare io non avevo spostato nulla, non avevo posizioni in vari livelli, tre posizioni quella tra l'altro che avevo preso qui a 76,20 è stata in ampio profitto però non aveva senso poi nell'ottica totale dell'operazione il mio progetto era quello di andare almeno sulla parte alta quindi l'ho tenuta totale, non sono fuoriuscito da questa posizione come avete visto la settimana scorsa ma comunque non eravamo ancora su questi livelli perché poi settimana scorsa si è chiusa qui e quindi ho deciso di rimanere dentro di valutare qualora ci fossero delle rotture false anche di rimanere dentro ma così non è stato quindi a questo punto ecco il video vuole essere anche una conferma che non tutte le posizioni anche per me che faccio trading da molto tempo che lo faccio in maniera professionale che tutto quello che volete con la mia esperienza però succede che certi trade non vanno dalla nostra parte quindi piuttosto di combattere le perdite o comunque di cercare quelle strategie chiamiamole così che sembrano perdino mai non perdano mai scusate che abbiano una percentuale di ratio altissima eccetera meglio concentrarsi sul fatto di leggere bene i mercati sul fatto di gestire al meglio le nostre posizioni quindi i nostri comportamenti quindi gestire bene noi stessi sul fatto di gestire un rischio di posizione io qui bene o male comunque sono rimasto dentro un rischio che potevo permettermi intorno a un 2% di perdita levemente meno e ho deciso che andava chiusa quindi ecco piuttosto di concentrarvi su cose che sinceramente sono dei sogni il fatto di avere sempre una posizione che va sempre a profitto concentratevi sul gestirvi sul gestire, sul capire sulla qualità piuttosto che la quantità sul less is more come dico sempre che il meno è più quindi su poche cose ma che sapete guardare e quando è il momento di chiudere una posizione quando è il momento di decidere che quella posizione anche in profitto o in perdita va chiusa va chiusa non ha senso stare dentro su posizioni che iniziamo a essere investiti e abbiamo più il senso della speranza più che quello della convinzione che il trade possa fare in realtà quello che ci ha permesso di aprirlo all'inizio questo diciamo era un po' il mio video di oggi quindi il fatto che bisogna quando si entra nel mondo del trading accettare il fatto che non tutti i trade che faremo anche quelli dove siamo più convinti dove siamo più sicuri dove ci sentiamo più anche a livello proprio di mood ci sentiamo sul mood del mercato ce la sentiamo oltre al fatto di avere una giusta impostazione che rispetta il nostro metodo ci sono in quei momenti in cui la posizione per qualsiasi motivo può andarci contro anche dopo un mese che la posizione era in profitto io ho deciso di gestirla in questo modo questo tipo di posizione tante volte io sto dentro molto meno però in questo caso avevo anche già accettato il fatto che la posizione potesse anche fare una cosa di questo tipo e quindi andare a fallire diciamo la mia visione quindi concentratevi su questo concentratevi non sul cercare che ogni posizione possa avere ovviamente che sia sempre una posizione profittevole ci sta e ci sono dei momenti in cui anche più posizioni consecutive possono non realizzarsi con dei profitti e quindi qui cosa ci viene d'aiuto ci viene d'aiuto la gestione del rischio la gestione del nostro portafoglio il money management e quindi operare con delle size di posizioni che siano giuste per il nostro tipo di conto di trading quindi il nostro capitale ma anche il nostro capitale emotivo il nostro capitale psicologico quindi la nostra esperienza quindi dobbiamo fare un mix di questo e quindi cercare quando la posizione sappiamo che potrebbe essere fallita la nostra view quindi sappiamo che lì più o meno andremo a chiudere la posizione perché possiamo anche non utilizzare per forza degli stop in macchina o dei paracaduti più ampi e dopo da lì io per esempio qui non avevo lo stop lì l'ho deciso di chiudere poi manualmente quando ho visto che in effetti la posizione era fallita non aveva senso più tenerla ho chiuso manualmente ma avevo una size di posizione totale che mi permetteva di chiudere sempre con delle piccole percentuali al massimo di perdita questo è fondamentale ed è importantissimo perché così non abbiamo delle perdite una perdita di un trade del 30 o 40% del conto ma abbiamo anche una perdita che è dell'uno del due del tre quando è tanto ok? questo è fondamentale ed è importantissimo detto questo quindi io spero di avervi dato anche un input anche se spesso le dico queste cose ma anche guardando un'operazione reale che ho fatto e quindi mostrandovi anche che in questo momento io poco un quarto d'ora fa ho chiuso questa posizione in perdita e ci sta si va avanti si guardano delle nuove price action e si valuterà sempre la qualità prima cercando di fare il meglio e di gestire le nostre posizioni al meglio anche chiudendole in perdita qualora la posizione non fa più quello che noi avevamo studiato potesse fare bene a questo punto io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona giornata un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti